Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo con un'ampia pagina dedicata al Covid. Oggi è il secondo giorno da quando il Super Green Pass è necessario anche in zona bianca per accedere agli stadi, ai cinema e ai ristoranti al chiuso. A Peschiara oltre 400 persone controllate e 5 sanzioni emesse. I particolari nel servizio di Giuseppe Dintino. E corsa alle prime dosi in Abruzzo. Oltre 5.000 quelle somministrate nell'ultima settimana. Si tratta del 47% in più negli ultimi 7 giorni, più 108% rispetto a due settimane fa. Perché chi non si vaccina non può scaricare il Super Green Pass e chi non ha Super Green Pass non può più accedere a bar e ristoranti al chiuso, a teatri e cinema, a stadi e discoteche. Le persone sono rette e corrette. Quindi chi era un pochino che non aveva la possibilità è rimasto fuori. Ma sostanzialmente non è cambiato nulla. Proprio in questo momento, in questo ristorante, voi state controllando il Super Green Pass perché altrimenti non si può accedere qui. Com'è cambiato il lavoro? Esattamente. Non molto rispetto al passato, c'è solo questa incombenza in più. Teme che questo possa avere una ripercussione sul fatturato? Uno ieri è andato via perché non ce l'aveva e qualcun altro c'aveva il Green Pass, quello semplice col tampone, non l'abbiamo fatto mangiare. Naturalmente un po' di calo ci sarà. L'esito negativo del tampone è sufficiente per recarsi al lavoro, ma non più per accedere ai luoghi della cultura e del divertimento. Da ieri è necessario il Super Green Pass anche in zona bianca. In Abruzzo i non vaccinati, neppure con una dose, comprendendo però anche coloro che ne sono esenti, sono 165 mila. Ho la terza dose, di già, poi mi hanno rifatto un'altra volta l'antinfluenzale, quindi sono già super protetta, credo. Comunque penso che ci vuole. Quindi le può accedere a tutti i luoghi? Comunque sì, se mi serve sì. Per noi è il secondo giorno, il primo anzi, perché siamo stati chiusi, controllo il Green Pass con l'app. Così siamo più sicuri, più tranquilli e possiamo andare dove vogliamo. Ieri prima giornata di quest'ennesima stretta su Inovax, e quindi anche prima giornata di controlli. A Pescara, fanno sapere dalla Prefettura, nessuna criticità. 433 le persone controllate, 58 gli esercizi commerciali, mentre le sanzioni sono state solo 5. Non voglio prendere la multa né per me né per loro, quindi cerchiamo di essere corretti. E se la produzione non può ricevere altri colpi, impedendo ai lavoratori non vaccinati di svolgere il proprio mestiere, si è scelto di limitare l'accesso nelle attività che riguardano la vita sociale, forse ritenuta di secondaria importanza. L'obiettivo è manifesto, rallentare l'avanzata del virus, così da scongiurare ulteriori restrizioni e salvare i consumi del Natale. Per Natale così siamo più liberi. Ci salviamo un po' di più. Certo, è più una sicurezza. Vediamo i numeri odierni. Sono 156 nuovi casi di Covid accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 3792 tamponi molecolari. Il risultato dunque positivo è il 4,11% dei campioni. Si registrano tre decessi recenti. Il bilancio delle vittime sale a 2602. Pressoché invariati i ricoveri che passano dai 128 di ieri ai 127 di oggi, l'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti sale a 135, mentre il tasso di occupazione dei posti letto resta fermo al 4% per le terapie intensive e al 9% per l'area non critica. I nuovi positivi hanno un'età compresa tra 1 e 95 anni. Gli attualmente positivi sono 4.961. 119 pazienti, meno uno sono ricoverati in ospedale in area medica e 8, numero invariato, sono in terapia intensiva. Mentre gli altri 4.834 sono in isolamento domiciliare. I guariti rispetto a ieri sono 240 in più. Vediamo le variazioni provincia per provincia. Più 38 rispetto a ieri in provincia dell'Aquila, ovviamente i positivi. Più 67 in provincia di Chieti, più 12 in provincia di Pescara, più 35 in provincia di Teramo e 713 più 4 sono persone che risiedono fuori regione. Il presidente della regione Marco Marsiglia è tornato a parlare dell'importanza della vaccinazione anti-Covid, ma anche dell'indennizzo che lo Stato dovrebbe riconoscere. Il governatore ha poi ribadito il suo pensiero sul super green pass. Paolo Renzetti. Ma io non sono scettico sulla campagna vaccinale. Io sono scettico sul fatto che lo Stato deve essere chiaro e trasparente con i cittadini. E quindi quando si dice che la campagna vaccinale è facoltativa e poi di fatto è una costrizione, questo produce un livello di conflitto tra lo Stato e una parte dei cittadini, che è quello che poi abbiamo visto manifestarsi in tante piazze d'Italia, a volte anche con violenza, è sempre ovviamente ingiustificabile. Quindi ho fatto questa riflessione e ho proposto costruttivamente al governo di cambiare atteggiamento rispetto ad alcuni passaggi. Sarebbe stato e continuo a ritenerlo ad esempio molto utile se accompagnare questa campagna di vaccinazione con l'inserimento del diritto all'indennizzo che fa sentire cittadini protetti dallo Stato. Mentre l'impressione che molti hanno di avere uno Stato che ti obbliga di fatto a vaccinarti perché se non ti vaccini non vivi più, non prendi neanche lo stipendio, rischi persino di non lavorare e di non mangiare, però la responsabilità della vaccinazione te la devi assumere, devi firmare le liberatorie, lo Stato non garantisce l'indennizzo, per ottenerlo nel caso devi avviare una causa risarcitoria lunga e complessa. Ecco questo, non credo che sia un atteggiamento utile per incentivare i cittadini a farsi il vaccino. Sono convinto che se ci fosse stato l'indennizzo sarebbero stati molti di più quelli che sarebbero corsi a vaccinarsi e magari lo avrebbero fatto sin da prima e senza bisogno di ulteriori restrizioni. Sui bambini c'è una sensibilità ancora più marcata e quindi anche persone che non hanno nessun dubbio sul vaccinarsi e che hanno fatto due o tre vaccini hanno molta resistenza a portarci i bambini. Per questo io mi appello molto alle autorità mediche, ai pediatri in particolare, che sono quelli che poi i genitori consultano prima di tutti, quindi se da parte dei pediatri ci sarà la capacità di comunicare, di spiegare, di convincere, di far capire quale sia il vantaggio reale della vaccinazione anche dei bambini, io credo che molti genitori porteranno tranquillamente i loro bambini a vaccinarsi. Andiamo a Fossacesi, adesso servizio mensa sospeso in via precauzionale dal 9 al 23 dicembre, nello stesso periodo nessuna riunione o ricevimento dei genitori in presenza che si terranno solo online, sospensione sempre dal 9 al 23 delle attività di educazione fisica e da 12 anni di età l'uso dello scuolabus solo per i ragazzi muniti di Green Pass. Sono le decisioni assunte oggi nel corso della nuova riunione per far fronte alla quarta ondata di Covid-19 convocata dal sindaco di Fossacesi, Enrico Di Giuseppe Antonio, presenti tra gli altri l'assessore Maura Sgrignoli, l'insegnante Cristina Chiricò, coordinatrice per la scuola dell'infanzia, il professor Scarinci, vicario dell'Istituto Scolastico Comprensivo e in collegamento da remoto alla preside Rosanna D'Aversa. Sono provvedimenti che la dirigenza scolastica ha preso considerando che ad oggi le persone positive sono 38 ed in quarantena sono 99 e applicando tutte le normative previste per i comuni che come Fossacesia sono in zona bianca, precisano appunto di Giuseppe Antonio e la di Filippo. Come amministrazione comunale e con i dirigenti scolastici ci stiamo attenendo scrupolosamente e con rigore alle disposizioni previste dalla legge. Fossacesia il prossimo 11 dicembre riaprirà la palestra polivalente di via 1 maggio per consentire a quanti non lo avessero fatto e a coloro che devono ricevere la seconda e terza dose di vaccino. Alla struttura si potranno rivolgere anche i cittadini di Mozzagrogna, Santa Maria in Baro e Rocca San Giovanni. Questa mattina a Pescara, a Palazzo di Città, è venuta la consegna dei lavori del nuovo porto da parte di Arap. Grazie al nuovo progetto torneranno le grandi navi. Consegnati dall'Arap i lavori del porto di Pescara, questa mattina i dettagli del progetto che vedrà a breve l'avvio dell'opera sono stati presentati a Palazzo di Città alla presenza dei vertici regionali e comunali. Come ha spiegato il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, per il porto di Pescara arriva la tanto auspicata svolta. Intanto è una grande festa per tutta la regione e per la città di Pescara perché finalmente ci leviamo un peso alla coscienza di un obiettivo che abbiamo raggiunto lungamente atteso e per molto tempo inseguito. Cambierà che inizia la rivincita del porto di Pescara con l'insediamento dei primi lavori che come vedete riguardano la messa in sicurezza dell'apertura della diga forania e l'emersione della barriera soffolta del molo nord. Nel frattempo si stanno progettando gli altri lavori, il porto è integralmente finanziato, gli altri lavori riguarderanno la deviazione integrale di tutto il molo nord, poi la deviazione integrale di tutto il molo sud, quindi tutto il bacino commerciale sarà ovviamente libero dall'arrivo dei detriti del fiume e avremo abbattuto il noto problema dell'insabbiamento del porto canale di Pescara. Soddisfatto il sindaco Carlo Masci che ha parlato di opera strategica anche per le conseguenze positive sulla balneazione sul turismo. Soprattutto di risolvere definitivamente il problema della balneabilità del nostro mare che in questi ultimi due anni è stata garantita ma con questa realizzazione sarà definitivamente accertata perché non ci saranno più problemi di sversamento delle acque del fiume verso nord perché le acque del fiume usciranno lontane dalla costa quindi risolveremo il problema della balneabilità, avremo finalmente un porto importante e soprattutto io sognavo questa passeggiata fino alla Dica Foranea di un molo lungo e bello che si affacciasse sulla città di Pescara e questa situazione, questo sogno sta diventando una realtà perché Pescara avrà anche questa bellissima terrazza sul mare a 500 metri dalla costa che ci permetterà di avere un elemento in più per dare a Pescara quel tocco di fascino che ogni volta viene riscontrato da tutti quelli che vengono da nostra città. Il presidente di Arap Savini ha parlato nel dettaglio dell'opera che durerà fino al 2023. È un momento storico che ha visto Arap protagonista in un'accelerazione nell'ultimo anno per quanto riguarda tutte le attività programmatorie di progettazione ed oggi di affidamento dei lavori perché oggi formalmente vengono affidati i lavori alla nuova Coedmar che gestirà le fasi più delicate con la partenza dell'instaurazione del nuovo molo a nord che metterà in sicurezza pure le sabbie e poi chiaramente proseguirà con il pennello di foce e con tutte le opere di sicurezza. Un'opera importantissima collegata a tutte le altre opere strategiche che devono fare di Pescara un porto messo in sicurezza con tutti i problemi che ci sono da un punto di vista soprattutto dell'insabbiamento e della sicurezza per la navigazione marittima. Il presidente della FIGC Gabriele Gravini ha partecipato questa mattina all'Università di Teramo ad un seminario sul valore sociale dello sport. Con lui protetta da una teca di cristallo è arrivata anche la Coppa dei Campioni d'Europa conquistata dalla Nazionale Italiana quest'estate. Fare gli onori di casa il rettore Dino Mastrocola che per l'occasione ha indossato la maglia numero 10 di Insigne, il servizio d'Italia Bonnici Castelli. Gabriele Gravina, presidente della FIGC è stato ospite dell'Università di Teramo come relatore in un incontro sullo sport. Ma non è arrivato solo. Ha portato con sé la Coppa d'Argento vinta quest'estate agli europei di calcio dalla Nazionale Italiana. Eccola lì. Ha portata di mano il simbolo di una delle più belle vittorie conquistate dall'Italia. Una vittoria che ha fatto bene all'intero Paese. Il calcio vive un progetto nuovo, un progetto importante da tre anni a questa parte. Abbiamo parlato di rinnovamento, è nato un rinnovamento radicale. Ci sono, come in tutte le fasi evolutive all'interno dei settori economici, e il calcio è uno dei più importanti settori economici, ci sono dei momenti di grande criticità. Sia sul piano sportivo. Sappiamo benissimo che dopo aver centrato questo trofeo importantissimo, dopo 53 anni, sappiamo benissimo che il rischio di mantenere alto il livello competitivo poteva esserci. C'è stato. Abbiamo tutte le carte in regola per poter risalire in tempi rapidi e poter centrare l'obiettivo della qualificazione mondiale. Per Gabriele Gravina all'Università di Teramo è un po' come tornare a casa. Gravina è stato docente e ricercatore all'Ateneo Teramano per anni ai tempi del magnifico Luciano Russi. Oggi a fare gli onori di casa c'è il rettore Dino Mastrocola che in onore del calcio indossa la maglia numero 10 della Nazionale. Un calcio che in questi giorni vive momenti difficili sia economici che giudiziari. È una grande emozione una gioia immensa rivedere alcuni fotogrammi nella mia mente nel mio cuore di bellissimi momenti della mia vita vissuti qui a Teramo all'interno di questa splendida università ma soprattutto con l'orgoglio di aver condiviso con alcuni personaggi alcuni protagonisti di questa università illuminati mi riferisco in modo particolare a Luciano Russi con il quale abbiamo condiviso dei progetti delle iniziative straordinarie che ancora oggi lasciano tantissime scie di professionalità costruite all'interno di questa università che oggi operano nel mondo dello sport. Prende forma il rimpasto al comune di Montesilvano ieri hanno formalizzato le loro dimissioni da assessori Antony Aliano, Sandra Santa Venere e Paolo Di Blasio al loro posto entreranno tre esponenti di Fratelli d'Italia Lino Ruggero, Valentina Di Felice e Francesco Di Pasquale non ha ancora firmato i decreti di delega il sindaco Ottavio De Martinis che parla delle dinamiche che stanno portando al rimpasto e che passano anche per la sua candidatura alla presidenza della provincia di Pescara Stefano Recanati Sono state formalizzate tre uscite dalla giunta di Montesilvano un atto dovuto? Probabilmente questa lunga trattativa in seno al comune di Montesilvano ha fatto sì che tutti e tre gli assessori che erano oggetto di richieste da parte di altre forze politiche abbiano con senso di responsabilità fatto un passo indietro non lasciando a me il cosiddetto cerino in mano per questo li ringrazio come li ringrazio anche per il lavoro svolto ottimamente fino ad oggi e nei prossimi giorni ovviamente ragionerò come coprire questo vuoto questo importante vuoto ragionando un equilibrio legato ai numeri che da tempo in qualche modo era oggetto di valutazione mentre era Fratelli d'Italia? Sicuramente quando parlavo di equilibrio parlavo di Fratelli d'Italia che da tempo anche legittimamente in qualche modo chiedeva uno spazio in più uno spazio derivante dai numeri che sono sicuramente sproporzionati ed erano sproporzionati E' un passo per cui poi Ottavio Di Martini sei stato il candidato alla presidenza della provincia di Pescara? Diciamo che non è una logica conseguenza però sicuramente quando si è ragionata anche la candidatura della presidenza della provincia sul tavolo come ben noto sono stati portati anche gli aspetti più prettamente comunali sia di Montesilvano che di Pescara e da questo in qualche modo poi da questo si è ragionato anche una rivisitazione delle giunte e questo quello che è successo oggi in qualche modo ha accelerato un processo che comunque sarebbe andato in qualche modo in una direzione 18 gli amministratori andranno alle urne di che cosa avrà bisogno questa provincia? La provincia ha bisogno intanto di mautenzione stradale ha bisogno per quello che riguarda le scuole di una riqualificazione soprattutto di una messa in sicurezza e questo anche grazie ai fondi del PNRR che arriveranno sarà molto importante in qualche modo ragionare e programmare ma non solo questo io penso in qualche modo di dover creare soprattutto sinergia tra i vari comuni perché come ho detto da sempre io sono un fautore della sinergia territoriale la provincia di Pescara può dare tanto se interamente si lavora insomma compatti e cercherò di fare la collante affinché insomma tutto il territorio possa avere da questo punto di vista una forza anche da un punto di vista turistico Il Museo d'Arte Moderna Vittoria Colon ospiterà in mostra durante il periodo natalizio oltre 100 presepi dei maestri napoletani e abruzzesi prevista anche una raccolta solidale per le donne vittime di violenza Dall'8 dicembre a Pescara ci sarà una mostra di presepi abruzzesi e napoletani organizzazione dell'associazione Iside voi vi occupate di solito di violenza sulle donne delle problematiche che riguardano la violenza sulle donne però quest'anno parliamo anche di presepi Allora noi di solito noi nasciamo per combattere la violenza sulle donne e i bambini perché i bambini spesso sono vittime perché vedono quello che vedono anche loro sono delle vittime quest'anno per regalare un sorriso a tutti i bambini della città ma anche a tutti i cittadini insieme a degli amici napoletani stiamo realizzando questa mostra presepiale con opere sia pescaresi e abruzzesi ma soprattutto con opere napoletane all'interno dei presepi vedremo anche un banchetto dove si venderà del pane e della pasta sta fatta proprio dalle donne vittime di violenza perché il nostro progetto che era il pastificio solidale di Iside finalmente sta prendendo piede e in più ci sarà un albero dove ogni bambino può attaccare il suo pensierino sul Natale e verrà premiato a fine mostra Torniamo all'Università di Teramo dove si è tenuto un convegno per ottenere un marchio di tutela dei maccheroni alla chitarra il piatto simbolo della cucina abruzzese l'iniziativa ha visto la partecipazione dell'Ordine dei Cavalieri dei Maccheroni alla Chitarra e dell'Unione Regionale dei Cuochi Abruzzesi che hanno concluso l'evento con uno show cooking La tradizione dei maccheroni alla chitarra va tutelata se ne è parlato durante un convegno all'Università di Teramo organizzato in collaborazione con l'Ordine dei Cavalieri dei Maccheroni alla Chitarra e l'Unione Regionale dei Cuochi Abruzzesi tra gli obiettivi del convegno anche la richiesta di un marchio di qualità e tutela dei maccheroni alla chitarra al termine i cuochi hanno dato vita ad uno show cooking dedicato proprio al simbolo della cucina abruzzese L'incontro di oggi è un incontro estremamente importante sia a livello universitario che a livello territoriale a livello universitario perché è un momento di conoscenza per tutti i nostri studenti del corso di laurea in scienze gastronomiche e anche del corso di laurea in scienze tecnologie alimentari il coinvolgimento dell'Associazione Cuochi e dei Cavalieri dei Maccheroni alla Chitarra ha un significato anche per quanto riguarda il territorio noi speriamo che dalle riflessioni che sono venute fuori oggi si riesca a far partire un percorso importante per ottenere un marchio regionale di questo meraviglioso prodotto è un punto di partenza ma penso che lavorando insieme quindi l'università, le istituzioni e il settore economico operativo quindi i ristoranti, i cuochi otterremo quello che ci prefiggiamo esaltare il più possibile la qualità di questo prodotto e soprattutto fargli valicare il più possibile i confini della regione, dell'Italia e quindi farlo approdare a livello mondiale perché lo merita abbiamo fatto un disciplinare dei Cavalieri dei Maccheroni alla Chitarra per quanto riguarda la chitarra e la tipologia di farina o le tipologie di farina i vari tipi di condimenti abbiamo voluto codificare un qualcosa che per noi tutti i giorni la chitarra è un pasto normale però per tanta gente che non lo conosce vogliamo farlo conoscere a livello nazionale e internazionale l'obiettivo della dimostrazione è far sviluppare un prodotto un territorio e non basta solo l'Ordine dei Cavalieri dei Maccheroni alla Chitarra a quale io sono il Presidente ma bensì unirci con l'Università con i dotti perché capire al meglio le problematiche le varie esigenze la comunicazione del nostro prodotto non bastiamo solo noi ma bisogna fare rete e unirsi e avere delle forze e la visita del Presidente della Federcalcio che abbiamo visto nel servizio precedente apre la nostra pagina di sport perché Gabriele Gravina non si è sbilanciato questa mattina circa il passaggio delle quote societarie del Teramo avvenuto un mese fa entro lunedì si attende il parere della Commissione Federale Andrea Costantini non appena ci mandano i documenti come sapete ci sono 15 giorni di tempo dal passaggio per avere i documenti e poi la Commissione si riunisce in tempi molto rapidi liquida così in poche parole la questione del passaggio societario delle quote di Teramo Calcio il Presidente Federale Gabriele Gravina presente proprio a Teramo in mattinata al seminario sul valore dello sport all'Università carte che in realtà sono state già consegnate in Federcalcio lo scorso 23 novembre quindi allo scadere di quelle due settimane dal closing entro le quali la documentazione va recapitata agli uffici federali da allora entro 20 giorni ci sarà la pronuncia della Commissione Federale che dovrà valutare una serie di parametri che si riassumono in due punti essenziali solidità economica e onorabilità il parere dunque arriverà entro lunedì prossimo e c'è comunque grande attesa anche se sul fronte della nuova proprietà bianco-rossa c'è fiducia circa un epilogo favorevole così si è espresso sabato scorso il neopatron Davide Ciaccia la federazione ha le carte delle aziende che sono subentrate nella Teramo quindi le carte sono perfettamente in regola gli amministratori sono perfettamente in regola non hanno nessuna pendenza e chiaramente fossero state confermate le azioni di sequestro delle aziende sarebbe diventato complicato ma a questo punto nel momento in cui è stato notificato di sequestro di tutte le aziende di tutte le azioni sono tornate a disposizione quindi non c'è motivo di pensare che la federazione si possa esprimere in modo diverso che positivamente rispetto a tutto quello che è stato depositato lo scorso 8 novembre l'atto di cessione firmato davanti al notaio a Roma ha sancito il passaggio del 60% delle quote di Teramo Calcio SRL da Ismedia società riferibile all'ex presidente Franco Iachini alla Green Sports SRL a sua volta controllata al 100% dalla S.P.A. Edil Green Italia entrambe le società hanno come amministratore Massimo Chierchia che detiene anche il 90% delle azioni della Edil Green e che del Teramo Calcio è amministratore delegato con delega alla presidenza la restante parte di Teramo Calcio è di Ismedia al 31% e Franco Iachini al 9% l'ok della Feder Calcio dopo il dissequestro delle quote sociali darebbe un più ampio margine di manovra alla proprietà anche in ottica a mercato di gennaio un eventuale diniego rimetterebbe tutto in discussione e per il Teramo sorgerebbero una serie di problemi il presidente Gravina ha poi parlato in generale delle difficoltà del contesto calcistico abruzzese è un momento di grande difficoltà soprattutto nel calcio professionistico di base lo sta verificando lo sta pagando sulla propria pelle anche una città importante come Pescara Teramo è in fibrillazione da diversi anni e tutto il calcio professionistico di base è in fibrillazione sappiamo che ci sono delle criticità questo è inutile è inutile negarlo poi si parla del nostro settore economico come se fosse l'unica eccezione che vive di rischi di default rischi di soggetti che possono anche vivere momenti di difficoltà è tutto il settore dell'economia del nostro paese che vive queste tensioni certo il calcio fa più rumore è quello che dà possibilità a tanti soggetti di apparire in maniera diversa e a Pescara si torna a parlare di nuovo stadio questa mattina in tal senso si è tenuto un incontro a Palazzo di Città tra il sindaco Carlo Masci il presidente della Pescara Calcio Daniele Sebastiani e Andrea Bodi presidente del credito sportivo si è parlato di un rilancio di un progetto che era finito un po' nel dimenticatoio e che oggi torna d'attualità anche alla luce dell'incontro di questa mattina dopo aver acquisito nella scorsa estate il comunale Ughetto di Febo di Silvi proprio ieri tramite un bando pubblico il Pescara si era giudicato la gestione per 14 anni degli impianti sportivi stadio Mastrangelo e antistadio Cianfarani di Montesilvano e a proposito di Pescara a Grosseto i Biancazzurri hanno ritrovato una vittoria che mancava da oltre un mese tra i protagonisti Luca Clemenza autore di uno splendido gol il suo quarto in campionato l'attaccante non andava a segno dalla trasferta di Gubbio lo ascoltiamo Luca Clemenza allora io direi di partire da questo Euro goal 44esimo del primo tempo uno dei tuoi colpi ci avevi provato e ti era andato bene a Gubbio anche nella gara di Pisa l'altro anno insomma questi sono i colpi di Luca Clemenza ma ripeto sono contento per il gol sono contento per il tiro che appena appena mi è arrivata la palla ho visto lo spazio ho provato appunto la conclusione ma più per questo gol sono contento per i tre punti che siamo riusciti a portare a casa che abbiamo lottato e appunto siamo riusciti a tornare alla vittoria parlavamo anche con Auteri in conferenza stampa oggi per certi versi si è rivisto un po' il pescara delle prime giornate avete costruito di più avete avuto delle occasioni avete anche sciupato insomma è questa la strada giusta per risalire la classifica? Beh penso proprio di sì perché aver portato a casa la vittoria essere riusciti comunque a creare tanto ad andare alla conclusione a creare tantissime palle gol ad essere in partita sempre è una cosa molto importante sia per il morale e sia per per la squadra per uscire da questo momento un po' no ma devo dire che oggi ci siamo riusciti alla grande La di oggi può essere anche la giornata della riconquista di una maglia da titolare di Luca Clemenza nel Pescara? ma io provo a dare tutto durante tutte le partite che sia che entro dalla panchina sia che gioco dall'inizio non è importante è importante che quando entro in campo aiuto la squadra aiuto i miei compagni e riusciamo a portare a casa la vittoria c'è stato un momento in cui diciamo ero calato un po' fisicamente però adesso anche negli allenamenti in tutte le situazioni mi sto ritrovando alla grande anche oggi stavo molto bene e sono contento di questo parliamo di volley adesso l'ultimo turno di campionato conferma le tendenze di inizio stagione in A2 cadono nettamente Ortona e Altino in A3 l'Abbapineto demolisce nello scontro diretto macerata in 3 set Sieco e Abba torneranno in campo già domani per il turno infrasettimanale Sergio Zappalorto ci sta a perdere a Bergamo ma l'ennesimo rimpianto della Sieco va individuato nel solito set perso i vantaggi e sono 7 non certo pochi nonostante la consueta prestazione di Sant'Angelo 20 punti e 49% offensivo oltre a 2S e un muro punto la squadra ha ribadito i suoi limiti soprattutto nelle fasi clou ma ora occorre pensare solo al match di domani al Pallasporto scenderà inizio ore 19 il Reggio nell'Emilia che rilanciato da due successi di fila di punti ne ha 14 contro i soli due di un'impavida in ogni caso attesa dalla giornata del riscatto in A3 un travolgente Abba liquida la ora ex capolista macerata con un 3-0 nettissimo anche nei parziali al di là di una partenza equilibrata ottimo Catone in regia ma tutta la squadra merita dal 7 in su e in attesa del recupero di Torino che porterebbe al comando solitario il Pineto ecco la trasferta a Brugherio nel Monzese domani alle 18 contro il Fanagno di Coda tre punti da incamerare senza rilassarsi in A2 femminile perde di nuovo l'altino stavolta a Ravenna lo sfogo di certo condivisibile del prespapa fa da parafulmine un gruppo che sta lavorando con ossessivo impegno troppe le vicissitudini di una società comunque passata alla miracolosa storia con un borgo di 3.000 anime non va mai dimenticato in bimmaschile giornataccia dalle nostre il Paglietta cade in casa col mete in modo inaspettato più grave lo scivolone eppure per 1-3 dell'Alba nello scontro salvezza col Bellaria anche sfortuna nei due set persi i vantaggi ma ora l'Iseini in coda solitaria e non sarà semplice rialzarsi in bimbo femminile niente da fare per la rimaneggiata ancora una volta teatina sul campo del forte Capannuri ma il 30-28 della prima frazione e gli altri set persi ma giocati oltre ai 20 punti ad alto livello sono indizi positivi per un sestetto che prosegue nella sua crescita in B2 onore e gloria alla capolista Teramo di Marcella Corzo che batte e rimonta al tie break al termine di un match affascinante la vice Corridonia pure al tie break ma in negativo conclude un generoso Cetias Montesilvano Coltrani rimpianti molti ma un punto fa classifica in un turno in cui la Danunziana ha riposato il Gada Pescara 3 che vive un momentaccio cede di nuovo in casa col Bari domani niente palla a volè la nona puntata in programma a mercoledì 15 alle 21 Termina qui questa seconda edizione del nostro telegiornale vi ricordo alle 21 l'appuntamento con Proteramo un'ora insieme per analizzare il successo dei Biancorossi a Pontedera e proiettarsi verso il prossimo impegno quello interno con l'Ancona Matelica di domenica il TG6 invece torna questa sera puntuale alle ore 23 grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata grazie a tutti Grazie a tutti.